Una delle più belle canzoni del mio disco Secondo me, per quanto riguarda il lato giovanile Perché c'è il danno che la lì con Merola Prende un po' con tutta la fascia Mentre invece questa qui, secondo me, io la ritengo Una delle più belle canzoni che ho scritto Ximenzo D'Agostino Gli facciamo un applauso Andiamo, vai, vediamo se vi piace Ximenzo D'Agostino 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.